Sì, per esempio io vedo la decina e vedo che non siamo connessi o che qualche amico manca. Io devo rappresentare qualcosa di opposto a questo, ma cosa devo rappresentare a me stesso? Devi pensare come noi ci connetteremo insieme. E quando gli amici parlano in merito alla connessione, tu li critichi. Devi vedere fino a quanto sei tu che non vuoi aderirti, fino a quanto tu sei contro, come il tuo cuore, come la tua mente soffrono. Loro odiano, non vogliono accettare questo fatto spirituale. Almeno tu fai uno sforzo, ti incorpori e accetti al di sopra della tua ragione, cioè al di sopra della tua Malkut. In questo modo costruisci il grado di Binah. E tali azioni, quando tu le completi, tu apri una finestra ad un nuovo mondo. Non in relazione alla tua propria natura, ma alla natura superiore. Apparentemente si trova nella tua logica la mancanza di giustificazione, ma se lo fai varie volte, tu avrai una nuova finestra aperta in un nuovo mondo. Non comprendiamo come si può vivere lì, stare lì, però... Io ho visto un mondo alla rovescia, un mondo al contrario, è così come è scritto. Devi fare tutti questi esercizi, devono esercizi tutti questi stati. Vedremo come il giusto cadrà mille volte e si rialzerà. Noi dobbiamo provare, riprovare, provare e vedere ogni volta fino a quanto hai fatto. Però, al di sopra degli errori, delle mancanze, delle cadute nel tuo comportamento, quando tu continui avanzando, ognuno in accordo alla radice della sua anima, al di sopra di ogni cosa, noi prendiamo questo conto a favore perché ognuno entrerà nel grado di Binah e tutti i discernimenti di Malkuth porterà di tutte le mancanze di tutti. Allora, non ti esasperare. L'importante è l'importanza dello scopo che abbiamo bisogno di ubicare al di sopra di qualsiasi stato. Io non ho scelta. È così. Che dovresti fare? Di nuovo cadrò? E di nuovo? Sì, devo farlo. Vai a cadere. Questo è quello che mi dice il mio ego. Certamente che posso farlo. I cabalisti mi dicono che posso conseguire qualsiasi cosa con le mie qualità, ma devo attraversare tutti gli ostacoli in questo modo. Mille volte un giusto cadrà e si rialzerà dalla forza con la forza di Binah. Così il Creatore, se il Creatore non aiuta a costruire la casa, gli sforzi saranno in vano. I nostri sforzi non aiuteranno. Noi dobbiamo costruire unicamente l'importanza dello scopo, ma non il conseguimento della meta di per sé. Poco a poco, gradualmente, si stabilizzerà dentro di te e l'importante è parlare di questo, sull'esperienza. Vedremo quello che è scritto. È scritto molte volte, ma non hai messo attenzione. Che altro abbiamo? Haifa 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti.